è un sistema che va nella direzione da più stabilità alla governabilità che ci avete chiesto per essere chiaro io sarei molto favorevole per essere chiari, cioè se ciascuno di noi facesse il proprio elenco di punti io tutta la vita, cioè tra scegliere, tra un doppio turno di lista un doppio turno di coalizione vede Toninelli, questa è una battuta simpatica divertente, possiamo stare a discutere potrei dirle comanda chi ha i voti noi ne abbiamo preso i 11 milioni quando ci arriva ci fa un fischio e ne riparliamo però se lei fa questa dichiarazione qui fa una dichiarazione che tradisce il tentativo di fare polemiche tra di noi quando si fanno le leggi elettorali e le leggi costituzionali, lo ha spiegato Ciacchiani, lo ha spiegato Moretti e non è che arriva uno e dice si fa la mia legge, punto e basta, faccio un esempio